Il pallone d'oro a Giorginio era... Era... A parte che zinio non riesco a capire come si possa prendere sul serio ancora il pallone d'oro che era stato un parco di tutto quanto Eh esatto, io l'avevo detto quello infatti, ma l'avevano detto in chat, ma l'avevano detto no ma nè vero nè vero nè vero Ma stanta va a fine Ma chi vuole uccidere? Ma che caccia ti ha fatto? Ti scemo Allora che quella rimarrà sempre troppo pelato Mi porta un po' il fatto che sia una competizione francesca Ma io credo solo che la lobby sia abbastanza faccappata ma non riesco a capire, non vedo nessuno che scrive in chat Mi fa strana questa cosa No no La mia vita è migliore della vostra Gioco di merda zio pera Guarda bandolino quanto si stacca che è in mano bandolino Bandolino, su sto gioco non ti dica che è in mano se no la paura è mangiare Sai che vorrei provare quella cosa che hai provato tu l'altra volta? Spero a me può riuscire mai saltato male Ah può essere Ti fanno stridare Gli fanno stridare Non mi fa provare No no Io cerco di tornare Sto aprirò la voce per cortesia e grazie Ce la fa Hai visto che ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Amo chilling vomitare su sta mappa letale fratelli coltelle ma io sto fanno col coltello l'ho già levato nel senso che quello col coltello sta messo meglio secondo me troppo piccola uomo chilling e sorcio laziale madonna ma questa qui la donna terribile mamma mia tra un po godevo un po me dispiaceva che mi fa ridere a me che donano ma vinto il premio come portiere tutte poi non gioca per fare per la questione che hanno sì sì però capito è che c'è vorrei dire io fossi nel suo nella tua situazione direi porco dio poi non so se tu lo vuoi dire aiuto voglio muovete come moro un tumore di merda no non di così mamma mia o da finisher ti prego 20 secondi a merda uomo crazy double mini e il trottone e che cos'è king of the hill qui what è un giro mamma davvero bom uomo crea da dove cazzo spawni da indietro ma tu sei vivo allora marzo si ti ho detto ah pensavo di no è un pezzo di merda eh è importante che tu lo sappia sempre da sta parte devo passare porco dio che fastidia no bro la temistana vi voglio bene questi sono per l'altro troppo no da polmi ma guardo via 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 dietro 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 già porco dio ma ma non è ma scusami ma non è stato non è stato eliminato nessuno ma eravamo cinque già eh ovviamente uomo crea indovina ma porco dio dai che cacca perché vedi perché li levo questi fa proprio inutili proprio anti skill dio cane completamente anti skill sti fregnacci wow vabbè dai porco dio ma è ingiocabile si opera chi inizia che la cosa vince dai porco dio dai dai sto fermo di organi però ci sono degli specchi rotti non capisco no ma ma weirdo ragazzi abbiamo 40 secondi o ci cominciamo a muove o è inutile stato l'unico eroe che si è lanciato è stato io incredibile incredibile ha provato anch'io a farlo ma è andata finì male hai porto con il tuo marzo? si vai dai dai comunque stanno sbagliando tutti i salti io non capisco questa cosa sei a destra dai 18 secondi porco dio muoviti chi cazzo è? giammo di raccordi soki blade corri ok si lo psicologo del beslungo battari gioca va ah 2 v 2 bro di intelletto ok sei uno di due dopo l'ho provata da ammazzare i morti già intelligente ma sopra rincoglio che cazzo fai sopra no metà che si dà meta che sta dicendo mi suicido per te brodero tipo se sta suicida perché c'hai sensi di colpa fattelo porco dio che ti do una mano scuola che te lo tengo qui te lo tengo qui te lo tengo qui vai 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 perché sono veramente schifo ragazzi io ha preso mamma mia ma che è però una testa è una testa se non vale sarò una testa che devo fa lo sai che io so pazzo io prendo non non faccio più 123 è molto carteggia ma è no se una fica marco devi stare fermo una testa sinistra 100 per cento sinistra e sei uomo vai a destra perché ha detto sinistra uno di noi c'è una ragione ma non so no ma questa è finita di sinistra io lo sai che teoricamente so arrivare con il salto direttamente sull'altra parte questa è sinistra ragazzi quando volete o comunque si va a vita 50 navi e si presa una porta porco dio della madonna puttana gesù cristo maledetto questo fa marco azzam prenderà pugni butta di un marco fatto da già marco tocco ma è stanchezza a noi a stanno a fare ultimi due coltello ammazzare chi va chi va signori andate qui su una roccia ma perché dovete fare i tumori regà porco dio buttare giù dalle pedane ma che cazzo di saggio avete hanno buttato hanno frullata se no si ha presa pugni in bocca ma sembravo ti giuro non ti posso di che sembravo sembravi ieri che sembravi cosa no diciamo sembra proprio una persona del sud è sinistra o destra regà non lo so sai non ho la pi... no del vo madonna del vo te lo sai vai del vo corri io mi ricordo i periti li vanno buttati giù perchè stava a rire giù ma... no se siamo di usare addosso non lo so cascato pure... vabbè chi ci sta non lo so se qualcuno ti fa... certo poi me lo metto a guarda io figurate mamma questo muo' la prossima gli dà la bomba fra te gli sta esplode e scoppia via guardi mi chiede giù avrà trodo ma la devi portare a casa trodo vedi troda dove sta? dov'è il maniaco? e ciao... ma bello... non ti stiamo dipando? troda sama non mi piace il taglio di capelli non ti piace? però in realtà è pulito dove c'è il vecchio? eh il vecchio è pulito perchè sembra pover vecchio dalla serie no Francia e basta Francia e basta basta no 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 allora direi che in realtà è il vecchio che ammazza è il... cioè... la giustizia lo trovo? cioè teoricamente è una cosa sensata e poi si prende pure l'occurata è ancora più sensata non ci vediamo chiudi ma la testa la testa Grazie a tutti.